Lasciatemi dire anche questo, ho sentito colleghi che sono intervenuti in questi giorni e li ringrazio perché hanno fatto bene. Magari alle parole chiedo anche di accompagnarli con gesti concreti come quelli che stiamo facendo noi in queste ore. Con queste parole il sindaco di Fano Massimo Seri si era rivolto in particolare al collega di Colli al Metauro sul tema del centro Alzheimer Margherita. Aguzzi giorni prima aveva lanciato un appello alla Regione Marche affinché venissero istituiti sia un fondo straordinario per permettere alla struttura di riaprire sia un assessorato alle politiche sociali ad oggi mancante. Sentita poi l'intervista di Seri andata in onda nel nostro telegiornale venerdì scorso, Aguzzi ha deciso di mettere in chiaro la sua posizione assicurando un contributo del Comune qualora ce ne fosse bisogno. Non ho nulla da rispondere a Massimo Seri, io caso mai posso rispondere a qualche mio concittadino di Colli al Metauro che so che fruisce del centro Margherita e che come tante altre famiglie che fruiscono di quel centro oggi sono in difficoltà. Quindi se c'è la volontà anche di altri comuni di dare anche cifre in maniera tra virgolette eccezionale perché dico eccezionale nel senso non sta ai comuni mantenere un'attività che è legata alla Regione e l'attività sanitaria però se in questo momento di difficoltà possa servire e può servire anche un contributo da parte di alcuni comuni per poter incentivare e affrettare la riapertura di quel centro e consentirli di ripartire nell'attività non c'è proprio assolutamente alcun problema, anzi voglio informarmi con esattezza quanti siano i cittadini di Colli al Metauro che lo frequentano per rapportare poi alla cifra che metterà Fano anche un'eventuale cifra che metterà Colli al Metauro.